Sì, dopo Genova arriva anche a Savona, poi arriverà Imperi e Spezzi ovviamente nelle prossime settimane perché in tutta la Liguria come una delle prime regioni d'Italia, solo la Lombardia e Lazio sono al nostro livello, sta arrivando questo numero unico che vuol dire un migliore e maggior servizio per i cittadini, più facilità, più rapidità nel soccorso, quale che sia dal punto di vista sanitario ma anche ovviamente carabinieri, polizia e poi presto anche la Guardia Costiera entrerà nel sistema e quindi direi che è un grande passo avanti per la Liguria, un grande passo avanti per i cittadini della Liguria, una razionalizzazione e un'efficienza della pubblica amministrazione che in questo caso dimostra che quando vuole sa lavorare insieme in sinergia con tutti gli enti. Il numero unico di emergenza è il numero unico europeo, quindi è un passo in avanti verso il futuro, verso un sistema per salvare vite, per far sì che la Liguria e poi piano piano arriveranno anche le altre regioni perché noi siamo la terza a partire, quindi siamo teste di serie per diventare anche un luogo europeo a pieno titolo, ma l'Europa quella che ci piace, quella che facilita la vita dei cittadini che in caso di difficoltà sanno che devono fare un unico numero, sia in caso di incendio che di emergenza sicurezza che in caso di bisogni di salute. La novità in Liguria è che questo servizio viene stato affidato come soggetto attuatore al San Martino e quindi in quel caso vi è un pool di persone specializzate, laiche, cosiddette dell'1-1-2 che hanno il compito di affrontare in prima battuta le telefonate dei cittadini e devo dire uno dei valori aggiunti è che vengono fermate le telefonate non di emergenza perché purtroppo molti cittadini chiamano per situazioni che non hanno nulla delle caratteristiche legate all'emergenza quindi è anche un modo per non gravare sui centralini delle forze dell'ordine del 118 e via dicendo in modo tale che si intervenga nell'arco di 5 secondi con l'operatore dedicato. L'1-1-2 è assolutamente per come è stato testato sia in Europa che in Italia e nella prima regione che è stata la Lombardia non rallenta assolutamente la risposta all'emergenza. Il tempo inoltro all'operatore dedicato è di massimo 5 secondi. In quell'occasione l'operatore dell'1-1-2 ha sul proprio display già l'ubblicazione e l'identificazione del luogo della chiamata sia da telefono fisso che da cellulare. Quindi nel momento in cui la persona spiega che tipo di bisogno è viene già inoltrato al luogo competente per territorio e per materia. L'operatore poi non tratta il caso perché è giusto che poi venga trattato dall'operatore specializzato per esempio del 118 in caso di infarto, in caso di ictus insomma perché si sa e sappiamo ai me tutti che in quel caso l'operatore dà anche dei primi indicazioni al familiare o alla persona che chiama quindi devo dire che nell'attuazione pratica non vi è nessun rallentamento. L'app è già in funzione su tutta la provincia di Genova. Dà la possibilità innanzitutto di essere geolocalizzati attraverso il centro di localizzazione del Ministero degli Interni, quindi una geolocalizzazione molto precisa e accurata. Quando tu usi l'app la tua localizzazione appare direttamente sulla scheda che l'operatore sta compilando e può essere trasmessa immediatamente al centrale di secondo livello, sia i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco o soprattutto il soccorso sanitario, il 118, in modo che la centrale di secondo livello ottiene i dati già del posto dove deve andare con la via, il numero e tutto quello che gli serve per intervenire il più presto possibile.